Noi siamo convintissimi che il governo dà una grandissima rilevanza alla ricostruzione 2016, tant'è vero che il decreto legge 3 dedicato alla ricostruzione ha sbloccato molte delle questioni che da anni sembravano irrisolvibili. A ciò abbiamo aggiunto con le regioni un'azione puntuale e specifica su quelle che sono le criticità che è nella disponibilità della struttura commissariale risolvere, un servizio di supporto ai comuni che devono affrontare non voti degli appalti, l'esigenza anche con l'ANAC di alleggerire il peso di controlli che possono creare problematiche e criticità. In generale un'attenzione dedicata dovuta anche alla volontà di semplificare in un'Italia tanto complicata che come sappiamo ha una evidente difficoltà nella spesa pubblica.